ciao a tutti allora come promesso ho provato per un paio di giorni tra quattro giorni la patelletta da eccola qua vedete al suo utilizzo ovviamente come dicevo l'ho rifilata in modo tale che in ancoraggio questo punto è perfetto per me quindi o voi o con l'aiuto del vostro istruttore ve la potete far rifilare in modo opportuno la parte sottostante non l'ho minimamente toccata lasciamo la lasciamola non tocchiamo anche la sua lunghezza ho scelto alla fine ho scelto una m per le mie mani perché c'è la s la m e la l ci sono tre misure per le mie mani la m va benissimo la vediamo vediamo le dita come devono essere in questo modo questa è perfetta io vi invito anche a non tagliare esageratamente la patelletta vedete io tiro mille frecce alla settimana 50.000 all'anno 40.000 50.000 all'anno e ma non ho un callo non ho nessun callo sulle dita ok nessun callo sulle dita ovviamente non tiro mille libre ho le mie 33 34 libre sui miei archi ma non ho assolutamente nessun callo sulle dita e la patelletta deve essere tagliata in questo modo solo rifilata vediamo vediamo il tiro col mio fido smart riser vi ricordo sempre che smart riser fa la maggior parte del lavoro lo vediamo e mi trovo egregiamente facciamo il nostro stream walking e vedete come abbiamo visto la volta scorsa che abbiamo i riferimenti sulla patelletta ma abbiamo anche queste linee queste micro linee che mi permettono di fare un preciso stream walking senza andare attaccare la patelletta alla colla quindi io conto 246 e vedo sulla linea dove mi devo posizionare e poi mi posiziono ok in questo modo ancoraggio vedete non tocca da nessuna parte la patelletta o solo il pollice sottometto e rilascio la mia freccia senza avere nessuna interazione strana con il mento da parte della patelletta non ci deve essere il senso cinestetico la propria percezione mi permettono di avere un ancoraggio ripetitivo come abbiamo visto mille e mille e mille volte proviamo a tirare anche la spennata con lo string dei 18 metri ancoraggio espansione rilascio benissimo non solo questa patelletta ma ho preparato anche la patelletta che uso sul ricurro tradizionale perché nel ricurro tradizionale il ricordo non si può utilizzare la piastra metallica con lo scopo di ancoraggio ma bisogna utilizzare una patelletta fatta completamente in pelle eccola qua anche questa lo rifilata in modo tale che non ci siano interazioni la vediamo con il picchio testa rossa donadoni che grande arco che uso nelle gare 3d come ricurvo tradizionale lo vediamo ovviamente prendo sotto coca come tutti i ricordi tradizionali ancoraggio non ho nessuna interazione una presa perfetta rilascio ok naturalmente io non metto dragona vi invito anche voi a provare vediamo ancora una volta nel ricordo tradizionale veramente è una ottima sensazione la patelletta zara vi ricordo ancoraggio rilascio patelletta zara in cordova o le ho prese le ho acquistate tutte e due in cordova come le micro righe sia per il ricordo tradizionale che per l'arco nudo dove posso usare la piastra metallica me la sento più piena più più corposa tutte e due sono veramente veramente ottime e le consiglio vivamente una una cosa che non credevo non credevo invece mi devo ricredere e questa è il sottopelle la parte sottopelle che in sintetico è una microfibra che io ho impregnato di cera e grasso che anche zara mette a disposizione se non la trovate in giro al supermercato la potete acquistare direttamente da zara o nei migliori negozi ovviamente che trattano il materiale zara che io non faccio noi ma le cercate su inter visto che non mi sponsorizzano i negozi ve le dovete cercare da soli ok ricordatevi di iscrivervi al canale di schiacciare sulla campanella e c'è sempre il libro che mi dà supporto e che vi invito a leggere ciao a tutti ci vediamo alla prossima e ne parliamo ancora della pattelletta zara la vediamo poi all'opera nel campo all'aperto ciao